Il capo è in bagno con il pubblico. Sono arrivate le sovvenzioni per le sperimentazioni cliniche. Tutti vogliono entrarsi. La porta si apre. Il capo è in bagno con il pubblico. Silenzio! Non ho ancora preso una decisione. Toglietemi! Perseguitare un uomo perfino in bagno. Lo pulirei il bagno se mi facesse partecipare. Io ci vivrei. Siete chirurghi. Se volete fare colpo sul capo, fatelo con la chirurgia. Avery, tu sei con me. Bene.